Per me deroggiare come un libro aperto, due che ci devono un sussare cose, quelle che dia di euforia lo scoperto e quelle più nascoste e misteriose, che dia dei segreti c'è una tante, mica li fa sapere da tutti, guarda, bensì di un'esfida, ormai l'amicizia che c'è non è importa, e tra noi anche non c'è stato mai che si dice una parola storica, sicché da me, ben anche residente, Perugia me nasconde quasi niente. Si vesse da spiegare in qualche maniera di questa simpatia così capata, io non penso, bensì una cosa vera, che da mille e mille anni che è creata, le storie che successe, belle o brutte, da me Perugia me la racconta.